M-Ole vince la South Garda Bike, la corsa ciclistica per mountain bike giunta alla 14esima edizione. 1100 partecipanti che si sono sfidati a colpi di pedale tra le colline e vigneti del basso garda. Il norvegese si è giudicato la categoria Marathon in due ore di gara. Partenza da Medole e poi 60 km su un percorso impegnativo tra l'asfalto e il terriccio fino a pochi chilometri da Desenzano e poi il rientro verso il traguardo fissato sempre a Medole. Sul secondo gradino del podio l'italiano Andrea Righettini e terzo Nicola Taffarel, solo il 35esimo il mantovano Pietro Pedretti. Nella Marathon femminile invece a vincere Serena Calvetti che ha chiuso in due ore e 18 minuti. Nella categoria Middle vince Fabio Motalli che ha chiuso la sua gara in un'ora 3 minuti e 42 secondi. Partenza da Medole verso Sorferino, Castiglione ritorna a Medole. 30 km di strada con un dislivello di 600 metri. Alle sue spalle per un secondo di distacco Cristian Conti e di due invece Luca Comini. Davide Belletti si aggiudica invece la gara nella categoria Gravel e Bike. Al secondo posto c'è Simone Fiore, al terzo posto Massimo Colosio.